Mentre una buona parte del Partito Democratico inneggia l'imprenditore brindisino Nando Marino come candidato sindaco di Brindisi per le amministrative di giugno, sul fronte sportivo il presidente della Enel Basket Brindisi, nonché presidente nazionale di Lega Basket, sembra avere qualche problema. Milano, guidata dal presidente Livio Proli, Bologna e altre sei società di Lega Basket avrebbero infatti chiesto le dimissioni di Marino dopo che la Federazione Italiana Palacanestro ha revocato la convenzione per la quale la Lega Basket aveva il potere di gestire i tesseramenti e la gestione del calendario, un azzeramento di poteri divenuto definitivo nonostante l'organismo di Bologna abbia proseguito in questi giorni a gestire gli aspetti burocratici dei tesseramenti diramando la consueta nota relativa ai nuovi tesseramenti e rescissioni. Di fatto però la gestione del calendario dei play-off passerà certamente in carico al settore agonistico della Federazione Italiana Palacanestro. Questi disguidi sono partiti dopo che la Lega Basket ha autorizzato le società a scegliere se partecipare alle competizioni europee con la Lega Priva Euro Cup o con la Federazione Internazionale della Palacanestro, la FIBA. Quest'ultima ha subito informato il CONI che per questo motivo la nazionale sarebbe stata immediatamente esclusa dal torneo preolimpico, intimando anche la FIP di prendere provvedimenti contro Sassari, Reggio Emilia e Trento iscrittesi all'Euro Cup. Il CONI ha così chiesto alla Federazione Italiana Palacanestro di verificare se il comportamento di Lega Basket fosse legittimo e come risposta ha saputo che la decisione deliberata dalla stessa Lega di Serie A il 17 marzo rappresenta una violazione del principio di centralità della FIP e del dovere di osservare le disposizioni del CONI, della FIBA e della stessa FIP. Pertanto il Consiglio federale ha stabilito di risolvere la convenzione in essere con la Lega di Serie A, revocando le deleghe conferite, essendo venuti meno i presupposti, dice la motivazione, e di dare mandato alla Segretaria Generale per gli adempimenti di conseguenza un problema di fondamentale importanza, visto che la Lega gestiva il campionato di Serie A da 30 anni. Come appare chiaro anche dai numerosi articoli apparsi sulla stampa nazionale, le otto società che vorrebbero Marino Fuori e gli altri otto club che completano la Serie A si sono autoconvocati per una riunione informale che dovrebbe svolgersi martedì o mercoledì prossimo. Per sfiduciare l'attuale presidenza servirebbe la maggioranza dei due terzi dei voti, quindi 11 su 16 società. Per i favorevoli al cambiamento l'idea sarebbe quella di trovare una figura con provata esperienza sui regolamenti. Si è fatto anche il nome dell'ex presidente Giba Giuseppe Cassì, una persona che possa farsi da traghettatore della situazione gestendo a livello politico il disguido con la Federazione Italiana Palacanestro.